Quello che posso dire è che sicuramente per me, per tutti noi, per la nostra federazione è un grandissimo orgoglio poter partecipare a questo evento che si terrà domani e quello che c'è stato oggi. L'unica cosa che si può dire, secondo me, della giornata odierna è il fatto che è una giornata sicuramente speciale, che rimarrà impressa, insomma, nelle nostre menti e nei nostri cuori per sempre. Credo che sia una giornata speciale perché abbiamo la fortuna di avere un Papa speciale e credo anche che finalmente si possano tradurre in fatti concreti le molte parole, molti pensieri che ogni volta noi ci riproponiamo di fare e che poi non attuiamo mai, non mettiamo mai in pratica. Credo che con un Papa così, che ci indichi la via, la strada giusta da seguire, che ci scalda il cuore, che ci scuota l'anima, credo che sia un po' più facile diventare migliori e fare delle cose migliori che ci possano rendere orgogliosi.